Siete pronti ragazzi? Siamo carichi, carichi a molla Ragazzi, volevo dire una cosa Che non siamo ancora partiti Però il primo personaggio si è fatto male Sono già infortunato Guardate qua che ferita Povervi sul pollice E' terribile Non ce la farà Tagliare la mano Eccoli gli ultimi due Della truppa Ma Cosa è che hai visto? C'è una spada Un pacchino tecnicissimo Guardatelo Ma il premio Il più tecnico oggi va Molizie militare Un veterano di guerra Non hai fatto ferrata È un progetto Un progetto Un progetto Un progetto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti